Buonasera e bentornati ad un nuovo vlog. Stasera per cena prepariamo i panzerotti. Questo è uno dei ripieni. Che cos'è? Scarola olive e pasta al ciugue. Buono. Salsiccia, cicloria e stracchino. Allora, è a 200. Per quanto tempo? 15 minuti io metto, poi mi rego dopo. Angelina! Ciao Angelina! Ma che pasta è? Pasta pizza, per la pizza. Sì, è un mini calzone. Sì, è un mini calzone. Panzerotti, calzoni. Sa di scarola come... Sa di scarola, sa di olive. Sì, ha lo stesso sapore. La rinchi pure, non c'è la pasta. Fai vedere com'è dentro quello con la salsiccia e la cicloria. E lo stracchino. E lo stracchino. Un giorno. Un giorno dall'autostrada. Oggi siamo in gita. Io e mia madre. E ci siamo appena fermate all'autogrill per fare colazione, perché è la mia cosa preferita da fare. Allora, due cornetti vuoti e... E noi prendiamo un caffè ammacchiato. E un cappuccino. Sì. Usiamo due spremute? No, no. Un cornetto in omaggio e uno in promozione. Spremuta la potete anche portare via. No, grazie. Allora, due cornetti vuoti, caffè aratica, va bene? Sì, sì. Sì, grazie. Sì. Sì, grazie. Grazie. Guarda quante cose! Mi piace troppo l'autogrill. Un po' pazione per casa. Per famino. Sì, sarebbe bellissimo questo. L'unicorno per Famas. È bello questo. Sì, però qua costano troppo. Io quando ero piccola pensavo che ci fossero prezzi super convenienti, tantissime offerte, eccetera, eccetera. Poi crescendo mi sono resa conto che i prezzi sono molto alti in realtà. Però è bellissimo perché c'è veramente di tutto. Gli adattatori. Se qualcuno serve un cuscino da viaggio. E poi ci sono anche i libri. Fare colazione all'autogrill è bellissimo. Non so perché, mi piace un sacco. E poi l'autogrill è un po' affascinante. Ho questa fascinazione per gli autogrill da quando ero piccola. Come penso tutti i bambini in realtà. No? Sì, sì, sì. Non credevo che lo stessi chiedendo a me. È un'affermazione. Sì, perché è pieno di giochi, di cose. Papà portava sempre caramelle, ti ricordi? Sì. Una bella gita. Una bella gita. Fa freschetto. Freschetto. Comunque volevo dire che qui ad Arezzo hanno girato La vita è bella. Il film premio Oscar di Benigni. Io mi ricordo che Benigni veniva giù con la bicicletta senza freni. Infatti questo pezzo qua, però me lo ricordo in una maniera... Dal film, ovviamente. Beh, come quello che è venuto prima giù in bicicletta. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. E' incredibile, io non so che potere abbiamo, ma noi capitiamo nei posti sempre quando è tutto chiuso. Anche quando siamo andate a Genova abbiamo trovato tutto chiuso, soprattutto i musei, perché evidentemente hanno più giorni di chiusura durante la settimana. Adesso siamo qui ad Arezzo di lunedì ed è tutto chiuso, perché il lunedì a quanto pare è un giorno di chiusura delle attività commerciali qua. Allora mi viene da pensare che forse noi siamo abituati troppo bene a Roma. Roma è una grande città, c'è proprio sotto tutti i punti di vista. Cioè che è tutto sempre aperto, tutto disponibile, quindi siamo un po' viziate da questo punto di vista. Poi c'è da dire, quando siamo andate a Genova, cioè noi non siamo rimasti un giorno e siamo venute via come nel caso di oggi. Siamo rimasti due o tre giorni. Sì. Tre giorni. E continuiamo ad essere chiusi, i musei quelli famosi, quelli importanti, la Regia, tutto chiuso. Per fortuna che siamo riusciti a vedere l'acquario, quello era aperto perché comunque c'erano le scolaresche e tutta questa gente qua. Sì. Vabbè, prendiamone atto. Vabbè, noi abbiamo fatto quello che dovevamo fare qui ad Arezzo, quindi adesso ci avviamo. Torniamo a casa, torniamo a Roma. Due ore e mezza, più o meno due ore e mezza ci metteremo. È abbastanza veloce il viaggio. Sì, tutta la strada. Questi balconi sono carini. Sì. Io non so dove devo andare adesso. Segui la macchina là. Andare di là. Buongiorno, sono sempre più raffreddata. Ieri mi sono stancata tantissimo. Stamattina. Bisogna andare al supermercato. Andiamo. Sì. Tornare. Sì. 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 Allora, ho preso il filo interdentale, i pazzoletti da naso, lo yogurt magro, la burrata, la burrata, era al 50%, poi le gongole veraci, anche queste erano in offerta al 50%, poi ho preso un barattolino di pesto, poi ho preso il salmone affumicato, anche questo era in offerta al 50%, poi ho preso una confezione di uova allevate all'aperto, poi ho preso i fiori di zucca, ho preso le banane, poi ho preso i filetti di merluzzo alla mugnaia suggerati e le patatine da fare al forno. Buongiorno! Oggi è il 17 marzo ed è il mio compleanno, ma non solo, oggi è anche una data molto importante per la storia italiana, perché oggi è l'anniversario dell'unità d'Italia e quindi oggi vado a pranzo al mare. Dobbiamo concludere il vlog, perché mi sono dimenticata di farlo. Non vuoi salutare? Con queste zampe? Grazie per aver guardato questo vlog, spero vi sia piaciuto, spero vi abbia tenuto compagnia e ci vediamo nel prossimo vlog. Sì, adesso noi usciamo, andiamo a fare una passeggiata, sì, tu ed io, andiamo a fare una passeggiata. Dai, andiamo! Ciao! Ciao!